Altra sera ho avuto a cena alcuni amici californiani, qualcuno di loro già lo conoscevo, altri erano amici dei miei amici. Allora li ho invitati a casa mia per passare una serata insieme, ma gli ho detto non venite troppo tardi, venite un po' prima perché ho qualche sorpresina per voi. Volete vedere com'è andata la serata? Abbiamo passato una serata neanche a dirlo bellissima, volevo in qualche modo condividerla anche con voi, con questo video racconto, nella speranza che vi piaccia, vi auguro una buona visione. L'arrivo degli otto californiani era previsto per le 18.30 e noi durante il pomeriggio, per non star con le mani in mano, abbiamo iniziato a preparare degli sfiziosi contorni. Il primo che avete visto erano dei peperoni nostrani che abbiamo fatto rigorosamente fritti, mentre quegli altri, oltre ad essere fritti, proprio come questi fiori di zucca, erano ripieni di acciughe. Mentre qui nei fiori di zucca, oltre all'acciuga, abbiamo aggiunto anche dei tocchetti di provola silana. Nel frattempo si prepara anche la pastella per poi friggerci i fiori di zucca, un po' di farina, un goccio d'acqua e un po' di sale, giusto per dar sapore. La pastella deve avere una consistenza leggermente più spessa rispetto a quella di una crema, in modo da aderire bene i fiori senza essere troppo pesante. Vi raccomando, aiutandovi con una frusta, cercate di far venire la pastella più liscia possibile e senza grumi. E come dico sempre, siccome ognuno nella propria cucina può arricchire le ricette come meglio crede, se vi fa piacere potete metterci del pepe nero, dell'aglio in polvere, della paprika, un po' di prezzemolo tritato. Fate a vostro gusto se volete dare alla pastella un'aroma diversa. Nel frattempo i peperoni continuano a friggere, questi sono davvero il simbolo della nostra terra. Sono gli stessi che poi vengono appesi ad essiccare durante l'estate e che poi passati nell'olio caldo diventano i famosi peperoni cruschi. Questi sono fritti benissimo, possiamo toglierli e vediamo un po' se sono pronti anche gli altri che sono, lasciatemelo dire, i miei preferiti. Perché con l'acciuga all'interno saranno davvero favolosi e con la sapidità dell'acciuga contrasterà benissimo il gusto dolce del peperone. E secondo me ai miei amici californiani piaceranno davvero tanto, o almeno è quello che spero. Secondo voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi contorni tutti a centimetro zero. Sapete benissimo chi mi segue da un po' che non sono né uno chef, non sono né un cuoco, ma cucino soltanto per passione e per amore per la mia terra. E a questi otto amici voglio far passare una serata all'insegna del gusto, dell'ospitalità che ci contraddistingue e anche della passione per la buona taula. Nel modo semplice, nel modo familiare, in quell'ambiente della domenica, dove oltre al buon cibo il vero valore aggiunto è lo stare insieme e condividere un momento che poi diventerà un ricordo. Abbiamo aggiunto ancora un altro po' di pastella, una spolverata di sale, una macinata di pepe, perché alcuni fiori di zucca saranno ripieni di acciuga e di provola silana. Mentre gli altri li passiamo soltanto nella pastella e poi li friggiamo. Sempre per far aderire meglio la pastella ai fiori ti consiglio di lasciarla riposare per circa 30 minuti nel frigo. Poi si preriscalda l'olio per friggere alla temperatura classica di 170-180 gradi e si passano delicatamente i fiori di zucca prima nella pastella, assicurandoci che siano completamente ricoperti. Facciamo scolare l'eccesso e poi li tuffiamo nell'olio caldo. E se l'olio è alla giusta temperatura vedrete che non vi verranno inzuppati di olio, ma andranno fritti finché non saranno dorati e croccanti, assicurandoci di non sovraccaricare di olio, friggendo pochi fiori per volta, sia per evitare che si attacchino l'un l'altro, ma anche per non abbassare troppo la temperatura dell'olio. Questi fiori di zucca, se vi piacciono davvero così tanto, potete farcirli in tantissimi modi. Vi do qualche esempio di quelli che faccio io di solito. Alcune volte li faccio con il formaggio di capra e le noci. L'altra volta per esempio li ho ripieni con della ricotta fresca, poi ho utilizzato delle erbe aromatiche, ho messo il prezzemolo, un po' di menta, oppure del basilico, sale, un pochettino di pepe. E questo davvero era un ripieno delicato che si sposa benissimo con la delicatezza del sapore del fiore di zucca. Insomma ragazzi, i fiori di zucca sono un ingrediente davvero versatile e come li fate fate, sono buoni. Anche nella pasta ci viene benissimo. Eccoli qua, dorati, pronti e li andiamo a passare in questo vassoio nel quale abbiamo messo un paio di fogli di carta assorbente. Ma come vi dicevo prima, questi sono soltanto alcuni dei contorni che ci saranno stasera, perché già sono le 5 e mezza e tra circa un'oretta gli ospiti saranno qui. Ma perché gli ho detto di venire non troppo tardi? Perché loro non lo sanno, ma io li voglio coinvolgere nella realizzazione del primo piatto. Però voi continuate a rilassarvi, a guardare questo video, che vedrete che bella serata che ho preparato per questi grandi amici. E per dirla tutta, due di loro ci avevano invitato qualche sera prima ad andare a mangiare una pizza. Siamo andati al ristorante e dalla confusione che c'era per tutta la serata non siamo riusciti a dire neanche una parola. E allora stasera, visto che erano miei ospiti, volevo che la serata fosse diversa, che respirassero il vero clima calabrese. Quindi tutti relax, arrivano le 18.30 ed eccoli qui. Ad accoglierli ho preparato un piccolo aperitivo, sempre a base di cedro. E non gli faccio assaggiare l'agrume che ci contraddistingue in questa riviera e in tutto il mondo. E no, proprio non poteva essere diversamente. Ancora la serata è calda, dopo aver fatto gli onori di casa, mi vedono presentare con questo bel secchiello in vero stile casaro. Che cosa c'è dentro? Del latte freschissimo che mi ero procurato dalla mucca carolina del mio amico al mattino perché voglio fare davanti a loro delle belle ricottine fresche che poi consumeremo più tardi a tavola. Ma perché ci tengo a farla davanti a loro? Perché gli spiegherò con dei semplici ingredienti, soltanto con del sale e del succo di limone, come potranno rifare la ricotta anche quando saranno nella lontana California. E visto che questa videoricetta completa l'ho già fatta, per chi se la fosse persa, la metto nel primo commento qui sotto nel video. E contestualmente alla mia preparazione della ricotta, nel tavolo accanto, pensiamo al primo piatto. Per stasera abbiamo pensato di fare dei rascatielli, una sorta di gnocchi fatti senza patate e soltanto con acqua tiepida e farina, farina del nostro grano. E dopo avergli spiegato come fare un buon impasto, anche perché è una cosa molto semplice ed in modo teorico, è giunto adesso il momento di passare alla pratica. Ma non solo. Gli ho detto che quando torneranno in California, voglio che mi mandino i video di come cucinano in modo calabrese, anche a tanti chilometri di distanza. Perché, cari amici, è anche così che si fa conoscere la nostra cultura gastronomica nel mondo. Ed io, nell'attesa che il latte per la ricotta raggiunga la giusta temperatura, ho il tempo per iniziare a preparare il sugo per questo primo piatto. Il bello è che sono molto curiosi, si vede che hanno voglia di imparare e voglia soprattutto di conoscere il nostro modo di cucinare. Ed è anche per questo che voglio fare il sugo, un sughetto molto semplice proprio davanti ai loro occhi, nel mio solito maxi padellone. Inizio con il tagliare in modo anche abbastanza grossolano, due o tre belle cipolle rosse di quelle dolci. Nel frattempo avevo già raccolto un bel po' di pomodori e ho spiegato loro che a me piace fare il sugo con più varietà di pomodori. Infatti andrò ad aggiungere dei pomodori tondi e poi metterò anche dei pomodorini, sia rossi che gialli. E vedete come gli amici si cimentano, guardate Patrizia come se la cava a raschiare, per questo si chiamano raschiatelli, sulla tavola i tocchetti d'impasto. Io invece penso a tagliare i pomodori, sono belli, rossi, maturi, carnosi, sono proprio al punto giusto per fare un sughetto bello saporito. Ho versato già il giusto quantitativo d'olio nel padellone, la cipolla è stata tagliata e adesso tranquillamente finisco di tagliare i pomodori. Nel frattempo il latte sta quasi giugendo alla temperatura desiderata, ossia prima dell'ebollizione. Vedete, spiego loro che non appena inizi a fare le prime bollicine, che c'è quasi il sentore di arrivare ad ebollizione, circa 80 gradi, spengo il gas, aggiungo la giusta quantità di succo di limone, una dolce girata con la paletta in legno e copro nell'attesa che un po' si raffredde. Io ho anche la fortuna di avere un ottimo aiutante stasera, c'è Pietrolino che inizia a prendere dimestichezza con il dondolare del padellone gigante e nel frattempo sto iniziando a preparare le fuscelline per metterci le ricotte perché guardate, dopo aver scoperchiato il pentolone, il profumo è davvero intenso e la magia è avvenuta. La ricotta è pronta, i miei amici non possono credere ai loro occhi, per alcuni è la prima volta che assistono ad una preparazione in questo modo e vedremo poi quando li assaggeranno soprattutto come rimarranno sbalorditi della freschezza di questo prodotto fatto davanti ai loro occhi. Una precisazione per gli amanti del settore caseareo, la ricotta, come ben sappiamo, si chiama così anche perché è un derivato successivo alla preparazione del formaggio, dopo che con il caglio dell'animale, dello stomaco, si ricava il formaggio, il siero che rimane si aggiunge ancora latte e si forma la ricotta. La preparazione invece che ho fatto io stasera è un altro tipo di preparazione più semplice e più veloce, cioè dal latte ricaviamo direttamente la ricotta e magari sempre qui sotto nel primo commento del video ti metto tutti e due i procedimenti, ok? Direi che siamo in perfetto orario, i pomodorini e i pomodori li ho tagliati, adesso soffriggo tutto insieme, ovviamente non vado a mettere il peperoncino proprio perché non conosco i gusti di tutti e poi il formaggio e il peperoncino quanto c'è gente che non si conosce ebbene sempre che ognuno lo possa dosare se vuole nel proprio piatto. Mentre ho chiesto, aggiungo volentieri una bella manciata di basilico fresco e il resto me lo tengo da parte per aggiungerlo dopo. E che profumo, cari amici, si sta sprigionando nell'aria, profumo di Calabria. Se ti piacciono i miei video, se senti che in un certo modo ti appartengono e vuoi continuare a sostenermi, tutto quello che devi fare, e in modo assolutamente gratuito, è iscriverti al canale, basta cliccare sull'iscriviti qui a fianco, a destra, in basso, e poi attivare la campanellina. Attivando la campanellina resterai in automatico, aggiornato, su tutti i nuovi video che pubblicherò. Così non te ne perderai neanche uno. E quando il sughetto raggiunge quasi la cottura ottimale, saranno passati circa un quarto d'ora, venti minuti, tiro fuori l'attrezzo della nonna, il passaverdure. Ma quale robot e quale mix elettrico? A mano si passa, così tutte le bucce resteranno all'interno e poi li vado a portare le galline, mica vengono buttate nella spazzatura. Non solo, qui maciniamo tutto quello che c'è di buono del pomodoro, ma anche l'aglio, anche la cipolla, così diventa una purea dolcissima e profumatissima. E guardate la ricotta, ragazzi, guardate la ricotta come è invitante. qualcuno muore dalla voglia di assaggiarla, ma adesso che è bollente le metterò a raffreddare e poi le mangeremo. Abbiamo raccolto tutto il sugo passato, guardate che delizia, guardate che spettacolo, tutto il pomodoro macinato. E non hanno resistito, un po' di ricottina glielo ho dovuta fare assaggiare, seppur ancora è bollente. Ecco qui, e mi sembra che piace davvero molto. Bene o male, mi fa piacere, non c'è niente di meglio. Sì, è più facile. Got it. Got it. È molto più facile con il cuore. Molto più facile. È più facile. Ok, finiti. No, no, no. No, no, no. Ancora, ancora. Vuoi trovare? Sì. Trova, vediamo. Sì, let me see. E sì, cari amiche, ancora, ancora, perché i nostri piatti devono essere a valanga, non è che tra i gnocchi ciascuno. E finalmente, verso le 20 e 30, in perfetto orario, è giunto il momento di calare i rascatielli. Come avete visto, ho messo un filo d'olio nell'acqua di ebollizione. In alcuni video precedenti qualche grande chef mi ha criticato questo gesto perché mi ha detto che comunque non serve a nulla. Io, siccome mia nonna l'ha sempre fatto e che o serve o non serve, a me interessa che la tradizione e che quel ricordo vada avanti. Quindi io l'aggiungo e continuerò ad aggiungerlo. Maestro. Maestro. Maestro at school. You're school on us. That's beautiful. E per i cari amici l'attesa sta avvolgendo quasi al termine. Ancora qualche minutino e ci siamo. Ne approfitto per aggiungere qualche foglia spezzettata di basilico fresco. Il profumo che si sprigiona da questo padellone è qualcosa di strepitoso eppure soltanto del semplice pomodoro. Faccio una bella foto con la mia cara amica Patricia. Gli faccio fare una giratina propiziatoria anche a lei come dice l'amico Giorgione e ci siamo. Accomodatevi a tavola si mangia i piatti a valanca tra un po' domineranno la tavola calabrese di stasera formaggio e si wow ci siamo vai con gli impiattamenti a valanca per tutti e come al solito il bis rimane sempre pronto nel padellone adesso però li assaggio anch'io am ragazzi gusto calabrese gusto autentico una pasta buonissima e facilissima da fare e nel frattempo in cucina abbiamo preparato questi bei taglieri con del capicollo della soppressata e i fiori di zucca sia quelli ripieni che non ripieni sono da quest'altra parte porteremo a tavola i peperoni questi sono quelli ripieni con l'acciuga poi ci sono quelli senza nessun ripieno soltanto fritti e queste sono ricottine che da bollenti che erano le porterò a tavola ancora tiepide e se vorranno potranno aggiungere sopra una confettura di cipolla o di peperoncino e anche se il mio inglese è un po' maccheronico non è dei migliori l'italiano non ha mai difficoltà a farsi capire ma poi qui c'è il profumo che parla da solo non c'è bisogno di presentazione ci stiamo facendo un sacco di risate è una serrata davvero che scorre piacevole tra foto tra condivisioni di varie esperienze che stanno vivendo qui in calabria è davvero bellissimo ma una salsiccetta fresca fresca di un paio di giorni di suino nero tagliata a punta di coltello fatta davanti ai loro occhi non gliela dovevo fare assaggiare secondo voi ci vuole ragazzi la salsiccia calabrese è rinomata in tutto il mondo e voi che non gliela facciamo assaggiare il profumo è strepitoso quello del finocchietto selvatico e adesso con il pane casereccio e tutti quei bei contorni e un po' di vino rosso andranno giù che è un amore come si trova meglio tutto il suo per me vuole e a detta degli amici tutto sta andando per il meglio sto ricevendo insieme alla mia famiglia un sacco di complimenti e non può farmi che piacere come fine di questa cena che è stata abbastanza lunga e allo stesso tempo molto rilassante anche per me che ho cucinato anche per noi che abbiamo contribuito alla riuscita di questa bella serata insieme è davvero piacevole vedere i piatti di svuotarsi con il sorriso alla fine facciamo una bella rinfrescata con questo melone giallo e con questa bella anguria fresca perché ragazzi ancora fa caldo ancora si sta bene all'aria aperta io che già soffro facilmente di mal di gola per preservare la mia salute ho indossato anche la maglia della tuta perché vicino al padellone la temperatura era un po' più alta ma altrimenti la serata è davvero piacevole ecco qui l'anguria adesso gliela porto a tavola e la mangiamo insieme tempo se vi fa piacere lasciatemi qualche commento qui sotto nel video e fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa esperienza culinaria un po' di middle school ooooh oh my gosh oh wow mani un po' di melone wow grazie bravo 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 wow wow piccolo wow piccolo oh my goodness we gotta share i can't eat all that i can't there's no way e aggiungiamo un'ulteriore nota di dolce alla serata con quello che io in estate preferisco di più il tiramisù l'abbiamo fatto noi ieri con le uova fresca del nostro pollaio che abbiamo pastorizzato e infine abbiamo iniziato con il cedro e terminiamo con il liquore di cedro quest'ottimo digestivo che fra dieci minuti ci farà iniziare di nuovo a mangiare con una bella spaghettata aglio olio e peperoncino e questo brindisi noi tutti lo dedichiamo a voi che avete guardato il video fino alla fine un abbraccio a tutti un abbraccio 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 e questo pues qui è parto un abbraccio Grazie a tutti